Daremo conto anche naturalmente nel TG sedale di questa grande giornata per Nuoro, ma non solo per Nuoro. Ecco qua, l'inquadratura del Cagnolino che da un po' di tempo, vediamo che di qualche problema in cavallo. Edizione numero 114, una festa relativamente giovane se si pensa o qualche altra. Vabbè, ma insomma, relativamente giovane ma da subito piena di storia, quindi ha recuperato... Beh, sai Nuoro, la deledda, che molto ha scritto, poi satta che abbiamo ricordato nel centenario della sua morte, questi viaggi letterari che Nuoro gli dedica in queste serate. Forte a marzo, mi dicevano che all'inizio potevano sfilare tutte insieme, sarebbe stata anche quella una... Sì, evidentemente hanno preferito, insomma, ci sono anche motivi di affiatamento anche tra animali, quindi è possibile che abbiano deciso diversamente per questa ragione. Perché una discesa così ordinata mi pare che non si sia mai vista, o no? No, no, infatti mettiamo come sempre alla fine 400 cavalli iniziano a lasciare il segno del loro passaggio, ma ovviamente...